Questo quartiere per chi non lo conosce c'è una stratificazione straordinaria di 24 secoli che crea assemblamenti unici e quindi siamo abituati a parlare con l'arte da 24 secoli ed è giusto anche parlare con il linguaggio di oggi. La gente è abituata oltre che incuriosita. È il primo di due nuovi interventi di street art nel quartiere Sanità promossi dal Comune di Napoli. Sull'edificio antistante la Basilica di Santa Maria della Sanità, l'artista spagnolo Tono Cruz ha iniziato un'opera che coprirà un'ampia superficie della parete di circa 18 metri di altezza utilizzando un braccio meccanico. Il disegno è frutto di un lavoro costruito con i bambini del quartiere in un laboratorio presso il punto luce della sanità e l'intervento è realizzato dall'associazione Il fazzoletto di perle, finanziato dalla vendita dell'opera Sanità del pittore napoletano Tommaso Tieri, una pratica il cui senso è che l'arte produca arte. Il secondo intervento, dal 3 al 10 aprile, sarà eseguito sulla parete laterale della Basilica dall'artista argentino Francisco Bosoletti, già autore della partenope a Mater Dei. I bambini hanno lavorato sulla rappresentazione di se stessi attraverso la possibilità di confrontarsi con gli altri e attraverso dei laboratori anche sui silent book, che sono libri senza parole, hanno messo, come dire, appunto anche una modalità espressiva che travalica in qualche modo il codice verbale e quindi arrivi ad esprimersi unicamente attraverso le immagini. Qualcosa che viene costruito in maniera fortemente vissuta con il posto. Qui quello che voglio fare è non solo mettere lo stencil che hanno fatto i bimbi, sino fare un omaggio al quartiere ritratando i bulti di questi bimbi. Per questo voglio utilizzare solo il bianco come una allusione alla luce. Il bianco per me è la luce e anche non disturba tanto con tutto questo colore che ci sta intorno e ci parla bene anche con la chiesa, con questi futuri murali che farà il collega Borsoletti. Ancora una volta la dimostrazione di come questo quartiere sappia organizzare con tutte le proprie forze più importanti, con le proprie forze attive sul territorio, sappia organizzare e costruire dei momenti di socialità, di coesione, unendo appunto la creatività con quello che è tutto un lavoro che quotidianamente avviene qui. Grazie a tutti.